Io mi chiamo Gesù. Gesù? Io sono Giuseppe, il farigname. Io sono come gli altri, anche meno degli altri. Perché hanno scelto me? Sono venuto per uccidere qualcuno. Un bambino. Si tratta di un nemico del mio padrone e del Regno d'Israele. Sei Maria di Nazareth? Sono Maria. Dobbiamo partire stanotte. Un bambino di nome Gesù. La miniserie in due parti, mercoledì e giovedì, alle 20.55.